Anna. Sì? È sempre così che ti penso, sai? È soprattutto questo che conta. Sì. Vuoi? Anna. Sì, amore. Non ti ho perduta neanche un po', vero? Cosa dici? Non lo dico di me. Non ti sembra che mi sia allontanato? No. In tre mesi se ne può fare di strada. Tanta. Vanno a sapere più momenti da dove uno era partito. Invece non bisogna dimenticarsene mai. Sei sempre tu. Un fanatico, no. Non sopporterei l'idea di diventarlo un po' alla volta senza accorgermene. Sai, stamattina parlavo con Ugo. E con te, Ugo? Sì. Oh, che felicità per Marcella. Sono... posso... glielo posso dire che sta bene senza spiegarle come ho saputo. Sì, certo, fai tu. Parlavamo ed improvviso ho avuto un paio di reazioni eccessive. Capisci? Per questo mi è venuta paura di essere cambiato. Ma con te mi ritrovo. E che se pensa a quanti si lasciarono la pelle. Nel 20, 22. Per fermarli prima che arrivassero al potere. Ma più che la pelle. Il lavoro, la casa. E poi mi viene in mente di dopo. Ma sì, i miei ricordi cominciano molti anni dopo. Quando tutti parevano soddisfatti. C'era quell'aria di noia... ...della gente ormai sazia. Chi non era così non poteva più vivere insieme con gli altri. E c'è voluto questo macello. La vergogna. Solo per poter ricominciare un discorso. Se ci penso... Non so se è bene, è che a volte non ne posso fare a meno. Né che amore. Di chiedermi se dopo. 20, 30 anni dopo che tutto questo sarà finito. Perché ormai è chiaro, ci si fa. Chissà con quali perdite ancora, ma ci si fa. Se dopo ci sarà di nuovo un periodo in cui la gente si lascerà... ...attormentare. Ad estetizzare. Da un po' di pace e di abbondanza. L'abbondanza e la pace fanno comodo a tutti. A quei due di là. A noi due. A tutti. E magari per... ...per una questione di pane minestra... ...si sarà pronti a lasciar perdere tutto un'altra volta. La libertà un'altra volta. Allora... ...c'è solo la lotta. Siamo maledettamente in pochi, Anna. Allora... 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 Grazie.